L'arma più potente E ne vedo molta Dovremmo tornare a casa e aspettare la fine delle bufere La guerra non è finita E ti garantisco Che il vero nemico non aspetterà la fine delle bufere Veri Mettiamoci in piaccia Ma se non riesci a comprendere perché non voglio coinvolgere il mio popolo in una guerra che non ci appartiene È inutile continuare a parlare Hai scelto di morire qui Buona fortuna Abbiamo problemi più importanti ora Umani, via Ora Vieni a casa con me e non restare qui a morire Ma non ho intenzione di morire Guardami Guardami Trappole per noi? Non credo fossero per noi. Stava dando la caccia a qualcos'altro. Qualcosa di più grande. Madre di Dio. Che diavolo era quello? Ogni cosa è qui per lo stesso scopo. Questo pianeta è una riserva di caccia. Ci sono molte cose che non hai ancora visto.